Ho tanti finanziamenti, preferisco farmi pignorare. Potrebbe sembrare una scelta valida, in quanto magari se lei dovesse avere delle rate molto alte con il pignoramento, solo la prima finanziaria che lo effettua andrebbe a prendere il quinto del suo stipendio. Quindi ipotizziamo che lei abbia uno stipendio di 1.500 e le pignora 300 euro. Le altre si dovrebbero accodare, quindi dal punto di vista finanziario, mensile, la situazione migliorerebbe. Il problema però qual è? Che in questo modo qua lieviterebbe il debito e quindi non le converrebbe, anche per le conseguenze che ci sarebbero per quanto riguarda le segnalazioni. La cosa migliore da fare quando si hanno più debiti e non si riesce a pagare è cercare di trovare un accordo che sia sostenibile con le varie finanziarie, in modo da ridurre magari il debito totale, ma sicuramente le rate e renderle sostenibili per la propria capacità economica del momento, evitando azioni legali che possono farvi evitare drasticamente il debito. Nei casi più particolari e più critici, se ci sono i presupposti, è possibile anche aderire alle procedure di sovraindebitamento con le quali è possibile andare a ridurre drasticamente il debito pagando comunque delle rate in base al proprio tenore di vita. Per ricevere una consulenza gratuita in cui potremo andare ad analizzare al meglio la sua situazione, le invito a cliccare qui in basso ed in chienvio e le indicheremo qual è la migliore strategia per il suo caso specifico per uscire dai debiti. A presto!